Il comune di Alba Adriatica per dare un aiuto in un momento così difficile per i propri operatori balneari di esercizi commerciali sta lavorando per una sostanziosa riduzione della Tari. Un taglio alla tassa su rifiuti solidi urbani per venire incontro alla crisi economica legata alle chiusure pandemiche da un lato e dall'altro alla riduzione della spiaggia nella zona nord che di fatto ha compromesso parte del gettito derivante dall'attività stagionale degli operatori turistici. Per quanto riguarda invece la Tari 2021 ci sono due nuove iniziative che andranno al vaglio del Consiglio Comunale entro la settimana prossima. Si tratta da un lato della riduzione percentuale sempre in ragione dell'emergenza Covid e quindi della riduzione della capacità di produzione dei rifiuti da parte di attività produttive. Questa prima misura porterà a una riduzione percentuale che andrà dal 20% fino al 65% in base alle diverse categorie commerciali che vengono coinvolte per capirci le attività maggiormente coinvolte che sono i bar e i ristoranti avranno una riduzione del 50% sia della quota fissa che della quota variabile rispetto all'ammontare i tari che dovranno versare. In aggiunta a questa misura che coinvolge tutte le attività commerciali non di carattere stagionale, c'è una seconda iniziativa che invece coinvolge strettamente le attività stagionali o meglio le attività balneari confinate nel primo tratto di spiaggia, cioè quella che secondo le stime della regione viene individuata come zona d'alto rischio erosivo, vale a dire i primi 700 metri e la misura permetterà di ridurre ulteriormente oltre al 50% che già è una riduzione prevista per il fatto che sia un'attività di carattere stagionale, agli chalet un alto 35% o 65% aggiuntivo in ragione dell'aver avuto o meno la possibilità di compiere un ampliamento su spiaggia libera. Mentre al momento non è stata prevista alcuna riduzione degli oneri concessi per la spiaggia che non c'è più, in questi giorni infatti stanno arrivando ai titolari di concessione della maniale le cartelle per il pagamento del canone che incassano regione, stato e solo in minima parte il comune.